Abbiate almeno la decenza di non voler fare finta di risolverla la questione dell'ergastolo cautelare a Patrick Zacchi o di trovare la verità su Giulio Regeni con presunte pressioni politiche che dal governo vengono sempre sventolate alla stampa nei confronti dell'Egitto. Sarebbe curioso sapere, ad esempio, dal ministro tiepido Lorenzo Guerini, cosa pensi del ruolo dell'Italia come fornitore del governo di Al-Sisi, quello stesso che sta facendo di tutto per ammazzare il già morto e ammazzato Giulio Regeni tutti i giorni, oppure quello stesso che sta torturando Patrick Zacchi sottraendolo a un giusto processo, visto che stanno preparando la seconda edizione della grande fiera sulla difesa militare in Egitto, dove 400 espositori internazionali correranno lì nell'Egitto assassino per vendere le loro armi di morte dagli altri capi di Stato. E come scrive Antonio Mazzeo, un giornalista che tra l'altro sarebbe curioso una volta, dico almeno una volta soltanto, ascoltare in prima serata nelle trasmissioni in cui si parla di politica, solo per vedere l'effetto che fa, ci racconta che il principale sponsor della fiera d'armi egiziana sarà l'holding della cantieristica nazionale Fincantiere SPA, controllata per il 71,6% dallo Stato italiano, tramite cassa, depositi e prestiti. E quindi anche il ministro invisibile, Guerini, questa volta non può sottrarsi alla domanda. La società leader nella progettazione e realizzazione di unità navali da trasporto e crociera ha indirizzato la propria produzione del settore militare, accrescendo contestualmente le esportazioni ai regimi nordafricani e mediorientali più autoritari. Tra i migliori clienti, sarebbe meglio chiamarli i peggiori clienti di Fincantiere, chi c'è? C'è proprio l'Egitto, quello del dittatore generale Al-Sisi. Nell'ultimo biennio sono state consegnate alla Marina Militare Egiziana due fregate multimissioni Frem, classe Bergamini, ammodernate e equipaggiate nel cantiere navale di Mugiano alla Spezia. Lì, alla fiera, in Egitto, dove noi dovremmo esagitare pensioni, c'è anche un altro gruppo industriale militare nazionale che sarà presente alla fiera della morte del Cairo, ed è la Leonardo S.P.A., la ex Finmeccanica, controllata al 39% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi è un problema politico. Nell'ultimo quinquennio Leonardo ha esportato al Ministero della Difesa egiziano 32 elicotteri Augusta, 24 di tipo AV149 multiruolo e 8 AV189, valore complessivo dell'operazione 871,7 milioni di euro. E anche i manager di Leonardo si presenteranno al Cairo, con la speranza di concludere lucrosissimi affari con i militari egiziani. In ballo ci hanno commesso di 24 caccia bombardieri e per 24 caccia da addestramento e da combattimento. Poi, tra le industrie italiane, ci sarà anche l'elettronica S.P.A., che è tra le maggiori produttrici al mondo dei sistemi di difesa e attacco elettronici, che è stata fondata nel 1951 e ha esportato i propri prodotti in una trentina di paesi e che ha sedi di rappresentanza in Europa, in Medio Oriente e in Asia. Uno dei suoi clienti sono un altro paese assolutamente democratico, che sono gli Emirati Arabi. Poi, al Cairo sarà presente anche uno stand di Intermarine S.P.A., una società con sede ufficiale a Sarzana, in Italia, la Spezia, che progetta, equipaggia, costruisce navi militari. Non poteva mancare, ovviamente, l'Iveco, nella sua comparto militare. Società con sede principale a Bozzano e poi stabilimenti, Geopera d'Italia, Piacenza, Vittorio Venete e poi a Sete Lagoas, in Brasile, produttrice di caro armati. Ora dico, davvero, tutto questo avete il coraggio di chiamarla pressione politica? Davvero con questa sorridente partecipazione in massa italiana, credete che il dittatore Alcisi possa sentirsi oppresso minimamente dal nostro paese? Davvero il governo ha il coraggio di pronunciare anche solo il nome di Regenia e di Zarchi, senza provare un minimo di vergogna? Guardate, facciamo così. Nel canteggiate morte là dove è morto Giulio Regenia. Continuate pure ad avere le mani sporche di sangue, ma almeno abbiate la decenza di non nominarlo più. Buon lunedì.